illustrato questa mattina l'iter che porterà entro fino ottobre al confezionamento della prima barretta di cioccolato a marchio igp destinata a suscitare polemiche la decisione da parte della regione di istituire un registro per chi entra gratis nei musei si profila la violazione della privacy rapina una profumeria a modica bassa e con i soldi del bottino si compra la droga l'uomo un 24enne tunisino è stato arrestato dai carabinieri uno scelto lungo 40 anni e quello documentato dal deputato ibleo stefania campo ecco com'è ridotto uno degli angoli più suggestivi del sud est siciliano si continua a parlare di riordino della rete scolastica la conferenza provinciale si insedia ma non delibera comisso e modica chiedono un rinvio salve a tutti e ben trovati con l'informazione di canale 74 illustrato questa mattina in conferenza stampa modica l'iter che porterà entro la fine di ottobre al confezionamento della prima barretta del cioccolato di modica marchio igp i particolari sono stati resi noti oggi dal consorzio di tutela del cioccolato di modica e dall'organismo di controllo i dettagli nel servizio già a un posto all'interno del museo del cioccolato di modica la prima barretta a marchio igp il cui confezionamento è previsto entro la fine di ottobre ieri il primo incontro tra i produttori e il cs qua ovvero l'organismo che vigilerà sulla qualità e purezza di ogni singola barretta del cioccolato di modica il cs qua è infatti il primo organismo italiano abilitato per le certificazioni con alle spalle vent'anni di esperienza a fianco anche a prodotti come il grana padano e il gorgonzola di milano sostanzialmente si è reso noto che noi siamo largamente in anticipo con la stesura del piano di controlli non appena uscirà la pubblicazione della registrazione invieremo tutto il ministero che entro 20 giorni dovrà provare e quindi rendere ufficiale tutta la procedura questa mattina i dettagli di quanto fatto sino ad oggi sono stati resi noti in conferenza stampa dal consorzio di tutela del cioccolato e proprio dal cs qua al lavoro per rendere il sistema produttivo il più trasparente possibile con barrette di cioccolato uniche ed inimitabili uno su ogni singola confezione sarà ben visibile un codice alfanumerico che ne garantirà l'unicità seguito da due loghi del cioccolato di modica stampati dalla zecca dello stato che ne garantisce prestigio e sicurezza sarà un cioccolato quindi esclusivo con gli ingredienti selezionati tra frutta secca spezie sale e aromi naturali sarà sempre compito del piano di controllo contare tutti gli elementi che caratterizzano il prodotto e descrivere l'insieme delle condizioni e dei controlli ai quali la filiera produttiva e il prodotto devono essere sottoposti affinché possa essere identificato con la denominazione IGP cioccolato di modica noi come organismo di controllo autorizzato dal ministero abbiamo il complico di definire un piano dei controlli che viene inviato a tutte le aziende le quali hanno la possibilità di richiedere l'accesso al sistema e da quel momento noi iniziamo una serie di audit di riconoscimento e poi naturalmente di sorveglianza con attività di campionamento periodiche i requisiti sono diversi naturalmente la zona di produzione che non vuole in modica e poi i requisiti di lavorazione con percentuali di pasta di cacao e zucchero oltre chiaramente percentuali minime degli aromi naturali e gli ingredienti che si vogliono utilizzare rendere la città di modica capitale del cioccolato mondiale questo l'obiettivo principale su cui si sta lavorando reso noto infatti anche l'interesse al cioccolato di modica da parte della Cina che in queste ore sta stringendo rapporti di collaborazione con il consorzio è destinata a suscitare polemiche la direttiva della regione siciliana che ha recepito un decreto del ministero dei beni culturali del 2016 riguarda l'istituzione di un registro in cui annotare i dati anagrafici di chi usufruisce di ingressi gratuiti in musei, parchi archeologici, giardini monumentali si potrebbe profilare anche una violazione della privacy La regione siciliana ha recepito in questi giorni un decreto del ministero dei beni culturali che risale al 2016 e che riguarda l'istituzione di un apposito registro dove annotare gli aventi diritto all'ingresso gratuito nei musei, parchi archeologici, gallerie, giardini monumentali Nel registro vanno indicati data, nome e cognome della persona che usufruisce dell'ingresso gratuito documento di riconoscimento, motivo del rilascio del biglietto gratuito o ridotto con la sigla del personale addetto alla segreteria Tutte le pagine di questo registro, in vigore dal 3 settembre, vanno numerate e vidimate così dispone la regione siciliana La procedura di identificazione e di registrazione degli ingressi gratuiti sta causando ritardi alle biglietterie dei siti archeologici e dei musei siciliani soprattutto in quelli più frequentati Sui disservizi abbiamo sentito il coordinatore regionale beni culturali del sindacato Sadirs, Giuseppe Di Paola In teoria questi servizi dovrebbero essere demandati alle società dei servizi aggiuntivi e quindi non al personale regionale solo che in molti siti nostri della Sicilia ancora le biglietterie sono gestite dal personaggio regionale Si crea di servizi anche perché molte volte in servizio c'è solo una persona e quindi capisce bene che dovrebbe fare il pagamento dei biglietti e registrazione dei gratuiti e a seconda del tipo di affluenza è inevitabile che si creano di servizi Ma la procedura di identificazione dei visitatori e della relativa registrazione potrebbe anche configurare una violazione della privacy In effetti questo me lo sono chiesto pure io e si dovrebbe identificare il responsabile della privacy però in ogni ufficio perché quando ci sono dati sensibili o dati personali all'interno dell'ufficio è previsto che ci sia un responsabile L'argomento non mancherà di suscitare polemiche anche a causa dei disservizi che saranno costretti a patire i turisti condannati spesso a lunghe code alle biglietterie Ed adesso apriamo la pagina di cronaca Un 24enne straniero pregiudicato è stato arrestato a Modica per rapina Il giovane si era presentato in una profumeria di Modica Bassa intimando la consegna dell'incasso e con il bottino era andato a comprare della droga ma gli agenti lo hanno individuato ed arrestato in tempi record Aveva compiuto una rapina poi con il magro bottino aveva acquistato della droga ed era tornato a casa per dividerla con un suo amico tossicodipendente Ma gli agenti del locale commissariato lo hanno individuato e arrestato solo pochi minuti dopo aver messo a segno il colpo E' accaduto a Modica sabato sera verso l'orario di chiusura lo straniero 24enne è entrato in una profumeria di Modica Bassa e dopo essersi accertato che non ci fossero telecamere ha puntato il dito da sotto la tasca dei pantaloni simulando il possesso di un'arma e ha gridato alla titolare della profumeria dammi tutto quello che c'è nella cassa e non ti succederà niente La donna terrorizzata ha subito consegnato la somma che in quel momento deteneva circa 60 euro Il malvivente ha raffato il denaro e fuggito a piedi Ricevuta la segnalazione i poliziotti sono immediatamente andati sul posto per prestare soccorso alla vittima della rapina ancora in stato di shock e ad acquisire elementi utili per le indagini Attraverso i pochi dati acquisiti gli agenti del commissariato hanno capito di chi poteva trattarsi e recatisi nella sua abitazione lo hanno trovato intento ad assumere sostanza stupefacente insieme ad un altro tossico dipendente Le dosi erano state acquistate con il provento della rapina Dopo gli accertamenti tecnici necessari il rapinatore è stato arrestato e associato alla casa circondariale di Ragusa la sostanza stupefacente sequestrata Continua intanto l'operazione dei carabinieri è stata sicura nel territorio di competenza della compagnia di Modica i militari dell'arma hanno arrestato a Scicli un giovane tunisino accusato di detenzione e spaccio di droga Un tunisino di 23 anni è stato arrestato a Scicli dai carabinieri del radiomobile della compagnia di Modica impegnati nell'operazione state sicura che interessa tutto il territorio di competenza della compagnia di Modica il giovane che vive da diversi anni a Scicli con la famiglia è accusato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio intorno alle 5.30 di ieri è stato notato da una pattuglia dell'arma in corso Garibaldi mentre si allontanava alla vista dei militari è stato fermato e controllato i carabinieri gli hanno trovato addosso 10 grammi di hashish la perquisizione è continuata a casa del tunisino qui sono stati trovati alcuni semi di canapa indiana marijuana, un bilancino di precisione e 100 euro in contanti probabilmente provento dello spaccio il giovane tunisino è stato quindi dichiarato in arresto in attesa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria il controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Modica con diverse pattuglie e in orari diversificati di giorno e di notte continuerà in particolare nei luoghi frequentati dalla Movida gli agenti della sezione volanti di Ragusa hanno arrestato a Casuzze un ladro di origini tunisine che aveva preso di mira auto in sosta gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione telefonica il giovane è stato preso in fragranza di reato all'interno dell'abitacolo dove si recava possessandosi anche di un borsellino con all'interno soldi, occhiali da sole e altri oggetti il ladro è stato immediatamente bloccato da un'ulteriore verifica i poliziotti hanno scoperto che anche un'altra auto era stata presa di mira la refurtiva è stata quindi riconsegnata ai legittimi proprietari cambiamo adesso argomento uno scempio lungo 40 anni documentato in un reportage è quello che interessa la foce del fiume di Rilo e la spiaggia Macconi dove la deputata regionale Stefania Campo si è recata personalmente per raccontare attraverso le immagini come è ridotto uno degli angoli più suggestivi del sud-est siciliano, guardate bidoni di prodotti chimici plastiche delle serre polistirolo scarti dell'agricoltura intensiva ecco ciò che viene ammassato scaricato e bruciato quotidianamente da oltre 40 anni in un territorio che potrebbe essere uno degli angoli più belli e suggestivi non solo della provincia di Ragusa ma dell'intero sud-est siciliano ovvero quello della foce del fiume di Rilo e dei 10 chilometri di spiaggia dei Macconi una vicenda di grave inquinamento e devastazione ambientale che la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo ha documentato in un reportage recandosi personalmente nella zona la Campo ha già fatto una mozione una interrogazione inerente ai reati accertati ed anche uno specifico disegno di legge che prevede un incentivo economico per la rottamazione di tutte le serre che insistono sopra il sistema dunale ci dicono che è difficile controllare inchiodare i responsabili sanzionarli e condannarli denuncia la Campo e nel frattempo il fiume, la foce la spiaggia dei Macconi sono diventati una incredibile discarica a cielo aperto non è possibile che le istituzioni locali facciano finta di non sapere e di non avere visto e che le amministrazioni comunali succedutesi negli ultimi 40 anni abbiano permesso tutto questo mentre i bagnanti in queste settimane hanno continuato a fare il bagno e prendere il sole a pochi metri da un autentico scempio ambientale qualche giorno fa l'esponente del Movimento 5 Stelle ha fatto un sopralluogo con il nucleo operativo regionale del Comando Forestale i cui vertici si stanno prodigando per incardinare un serio intervento sulla vicenda e anche un complessivo monitoraggio su quanto svolto finora dalle autorità locali la deputata regionale chiede il sostegno di tutti i sindaci interessati i consiglieri comunali le associazioni ambientaliste i deputati il presidente Musumeci gli assessori regionali competenti e il ministro dell'ambiente Sergio Costa Entro la fine del mese sarà inaugurata la bretela di collegamento che dalla strada statale 514 Ragusa-Catania porterà all'aeroporto di Comiso a darne notizie il commissario straordinario del libero consorzio comunale di Ragusa Salvatore Piazza che ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori dell'infrastruttura l'opera è già completata si sta procedendo a installare gli ultimi metri di guardrail per poi passare alla segnaletica orizzontale e verticale presto migliaia di studenti blazer hanno chiamati a tornare sui banchi di scuola e intanto si continua a parlare di riordino della rete scolastica l'apposita conferenza provinciale di organizzazione della rete si è insediata ma non ha ancora deliberato perché sia Comiso che Modica hanno chiesto un rinvio i dettagli nel servizio Mentre giorno 12 settembre in molte scuole iblei inizierà il nuovo anno scolastico si è insediata la conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica l'unico comune che ha deliberato finora però è solo quello di Vittoria e il dirigente Giuseppe SulSenti delegato dalla commissione prefettizia ha prodotto copia della deliberazione della giunta municipale datata 20 luglio che propone una rimodulazione dell'assetto della rete scolastica con la trasformazione del circolo didattico Rodari in istituto comprensivo che viene accorpato all'istituto Sciascia di Vittoria ma che prenderà il nome di Paolo Borsellino mentre l'istituto comprensivo Don Biagio accorpato al Caruano prenderà il nome di Giovanni Falcone Per il resto la conferenza non ha prodotto alcuna determina perché sia il comune di Modica per iscritto che il comune di Comiso su proposta del sindaco Maria Rita Schembari hanno chiesto un rinvio A Comiso l'amministrazione comunale ha avviato un confronto con i dirigenti scolastici per il nuovo assetto della rete ma il percorso non è stato ancora completato ed è per questo che il sindaco ha chiesto un aggiornamento della conferenza in modo che il suo comune possa determinarsi nei prossimi giorni Già più volte in passato il comune di Modica invece ha chiesto che venisse congelata la rete scolastica regionale per l'anno scolastico 2018-2019 e che venisse impegnato il governo regionale ad emanare un provvedimento di riforma scolastica solo dopo avere sentito i territori scongiurando accorpamenti di istituti scolastici dettati solo da esigenze numeriche e venendo incontro alle esigenze all'offerta formativa del territorio Sulla proposta di rinvio dei comuni di Modica e Comiso la conferenza non si è opposta e si è aggiornata al 13 settembre alle ore 16 il giorno dopo l'avvio delle elezioni I donatori dell'Avis della provincia di Ragusa si sono superati in fatto di generosità e solidarietà nel periodo più critico dell'anno quello compreso fra il primo luglio e il 31 di agosto nei centri trasfusionali del territorio ibleo infatti sono state 6.599 le donazioni effettuate quest'anno rispetto alle 6.127 dello stesso periodo del 2017 un incremento del 7,7% un risultato positivo che è stato sottolineato dai vertici dell'azienda sanitaria provinciale che in una nota oltre a ringraziare i donatori che hanno dato prova di grande sensibilità mette in rilievo l'impegno organizzativo del centro ragionale del sangue che ha tempestivamente autorizzato l'esecuzione del test per la ricerca del virus del Nilo occidentale per quei donatori che avessero soggiornato almeno una sola notte in una delle province indicate di volta in volta dal centro nazionale del sangue incarichi a presbiteri della diocesi di Ragusa sono stati conferiti dal vescovo Monsignor Carmelo Cuttitta gli incarichi assegnati riguardano 8 presbiteri il vescovo della diocesi di Ragusa Monsignor Carmelo Cuttitta ha conferito alcuni incarichi a presbiteri della diocesi Don Salvatore Cannata è stato nominato parroco a San Domenico Savio a Vittoria Don Gianni Mezzasalma parroco a San Giuseppe Artigiano a Ragusa Don Giovanni Medica parroco alle anime sante del Purgatorio a Vittoria Monsignor Salvatore Burrafato parroco a Maria Santissima del Rosario a Pedalino Don Enzo Barrano parroco a Sant'Antonio a Comiso Don Gioacchino Interligi amministratore parrocchiale a San Massimiliano Colbe a Vittoria Don Giuseppe Iacono amministratore parrocchiale al Sacro Cuore a Comiso Don Nello Dell'Agli amministratore parrocchiale a Sant'Isidoro Agricola a Ragusa è stato reso noto questa mattina il calendario del campionato di promozione girone D al quale partecipano Modica Ragusa Frigentini Atletico Scicli e New Pozzallo esordio in trasferta per Modica e Frigentini rispettivamente a Priolo ed Augusta la stracittadina fra Frigentini e Modica è in programma il 18 novembre mentre il derby tra Modica e Ragusa è stato fissato per il 2 dicembre il Frigentini dovrebbe giocare almeno per i primi due mesi al Barone il sabato riparte dalla mezzanotte di oggi la campagna di disinfestazione che interesserà buona parte del territorio di Modica le operazioni erano state sospese il 21 agosto scorso a causa della pioggia che avrebbe reso inefficace l'intervento questa seconda fase si concluderà nella notte tra sabato e domenica gli interventi saranno effettuati fino alle 5 del mattino l'ufficio ecologia del comune invita i cittadini a non irrigare i giardini e aree a verde nei giorni interessati alla disinfestazione per non vanificare gli effetti bene questa era l'ultima notizia noi ci fermiamo qui appuntamento con le prossime edizioni grazie arrivederci grazie